Eccoci qua con Umberto, sono riuscito a brancarti, volevi scapparmi, però io in questo momento ho bisogno di farti una domanda, ma tu perché hai scelto John Fitness? Perché vicino a casa, perché mi sento a casa qui e per le cene. Ah soprattutto per le cene? Sì, lo sport è la seconda cosa. Lo sport è una seconda cosa. Beh diciamolo che prima vi facciamo mangiare perché vi portiamo a cena e poi vi facciamo dimagrire, vero? La seconda fase ancora deve arrivare. Benissimo, senti ma da quanto tempo tu frequenti la palestra? Qualche anno. Qualche anno, sempre per le cene? Sì, sì, principalmente sì. Senti Umberto, ma la consiglieresti a qualche tuo amico? Sì, sì, sì a tutti, qua mi sento molto in famiglia. Sono contenta, sono contenta e ti ringrazio per questa tua testimonianza che vedrai ovviamente in giro per il web, per Facebook. Veloce che c'è Montalbano, veloce. C'è Montalbano, benissimo, ti lascio andare a vedere Montalbano. Ciao e grazie. Grazie.